18 febbraio 1745, nasce a Como Alessandro Volta, è universalmente conosciuto per l'invenzione della pila elettrica. La pila voltaica è composta da due conduttori metallici, rame e zinco, intervallati da un cartone imbevuto di soluzione acquosa. Tra i due metalli posti a contatto si genera una piccola differenza di potenziale denominata appunto effetto Volta, che a sua volta determina una corrente elettrica. Dal 1881 l'unità di misura del potenziale elettrico è chiamata Volt in suo onore. Muore nel 1827.